Il Partito Democratico si è mobilitato oggi per difendere i servizi sociali, i servizi alle persone in difficoltà, alle persone anziane non autosufficienti, alle persone con disabilità, ai minori che fanno fatica, alle famiglie povere. Questi ed altre opportunità e servizi non possono essere tagliati, sono troppo importanti. Sappiamo che la Regione ha meno trasferimenti da parte dello Stato, ma i soldi che la Regione emette non possono diminuire. Mancano all'appello almeno altri 40-45 milioni per fare in modo che i servizi dei territori possano continuare ad essere erogati. Noi su questo punto, che consideriamo davvero decisivo, continuiamo e continueremo a batterci in Consiglio regionale.